Musica Arrivano i fondi a Sestri Ponente dopo la lovione patita nella zona Ligure sono giunti i finanziamenti promessi dal governo L'autovelox non guarda in faccia a nessuno in una località della provincia di Padova colpiti anche i notabili del paese che protestano Guerra di perizia, il processo Meredith l'accusa attacca gli specialisti disegnati dalla Corte i quali sostengono l'incompatibilità del DNA trovato tra i reperti No al contratto tra confederali e SEA la protesta dei sindacati autonomi in piazza della Scala Il PD per una legge sulle coppie separate situazione confusa e crisi economica sempre latente dopo che ci si lascia Ben ritrovati giuntili telespettatori con questa edizione del nostro telegiornale Sono giunti i restanti 20 milioni di euro che completano la prima trans di fondi stanziati a febbraio dal governo per l'alluvione che lo scorso autunno si è abbattuta sul territorio ponente genovese in particolare su Sestri Ponente Lo ha detto a Lanza il presidente della regione Liguria e commissario speciale della regione straordinario per l'alluvione, scusate Claudio Burlando La regione ha già avviato le procedure per effettuare i rimborsi che verranno appunto dati entro il mese di agosto dopo il via libera della Corte dei Conti Ma vediamo il servizio Sono finalmente arrivati i restanti 20 milioni di euro che completano la prima trans di fondi stanziati a febbraio dal governo per l'alluvione che lo scorso autunno si è abbattuta sul ponente genovese in particolare su Sestri Lo ha comunicato il presidente della regione Liguria e commissario straordinario per l'alluvione Claudio Burlando Regione che ha già avviato le procedure per effettuare i rimborsi dei danni alle imprese alle famiglie colpite Non appena la Corte dei Conti darà il via libera saranno erogate le singole somme secondo un calendario che proseguirà per tutto il mese di agosto Il 21 luglio scorso erano giunti in Banca d'Italia i primi 25 milioni di euro Complessivamente ricordiamo il governo ha messo a disposizione per l'alluvione 90 milioni di euro suddivisi in due transci da 45 milioni ciascuna Conclusa oggi la prima, una seconda tranche sarà erogata all'inizio del 2012 E ricordiamo che nell'immediatezza dell'evento alluvionale erano stati messi a disposizione dal commissario straordinario Burlando 10 milioni di euro L'Italia ha richiamato l'ambasciatore in Siria, Achille Amerio per consultazioni di fronte all'orribile repressione che sta subendo la popolazione civile lo si apprende dalla Farnesina il ministro degli esteri Franco Frattini ha proposto anche il richiamo degli ambasciatori di tutti i paesi dell'Unione Europea a Damasco in una informativa alla Camera il sottosegretario Stefania Craxi ha inoltre annunciato l'interruzione dei programmi di cooperazione con la Siria Proseguiamo Chi di autovelogs colpisce, di multa perisce è capitato ai consiglieri comunali della località patavina di Riviera Ponti Romani dove i precisissimi congegni di rilevazione della velocità hanno coinvolto anche rappresentanti della pubblica amministrazione i quali hanno reagito nel modo che adesso vi mostriamo con questo servizio Multe salate nelle tasche di consiglieri, assessori e dipendenti della provincia di Padova il passaggio nella corsia preferenziale in Riviera dei Ponti Romani per raggiungere la sede di Piazza Antenora non ha graziato nemmeno i membri della casta che si sono ribellati minacciando un ricorso collettivo è da qualche mese che la zona è monitorata dalle telecamere dei nuovi varchi ma tra i trasgressori spuntano oltre i cittadini anche i membri di Palazzo Santo Stefano Io personalmente non sono coinvolto da quanto è successo però ci tengo a sottolineare che credo che ognuno lo abbia fatto in buona fede cioè quello di aver passato in queste strade in cui c'era il divieto di transito mi dispiace che ci sia un accanimento verso ogni istituzione nel momento in cui capitino fatti come questo che, sottolineo, sono convinto siano fatti accaduti in assoluta buona fede da parte degli interessati Il ricorso al prefetto paventato da alcuni amministratori è una decisione non condivisa dal PD provinciale che intende presentare un'interrogazione nel prossimo consiglio Boris Sartori, consigliere provinciale del PD sottolinea la democrazia che ci deve essere anche nel pagare le multe Alcuni ne hanno addirittura ricevute 20 e loro sostengono che il divieto su quella parte di Ponti Romani non era scritto nell'autorizzazione per poter accedere agli uffici provinciali ma noi diciamo effettivamente che quelli che hanno ricevuto le multe devono pagarle così come un imprenditore, un commerciante, un artigiano, un cittadino quando riceve la multa la paga ugualmente anche gli amministratori pubblici devono fare la stessa cosa per dare l'esempio di essere sullo stesso piano dei cittadini credo che invece il messaggio vada dato proprio a quei consiglieri e assessori che hanno preso le multe rinuncino alla possibilità di fare ricorso soprattutto non facciano un ricorso collettivo e vadano a pagarle come abbiamo riferito in una delle scorse edizioni è stato riviato la 5 settembre il processo per il delitto Meredith intanto nell'ultima udienza c'è stato uno scontro aperto tra i periti mandati dalla Corte che appunto sostengono che c'è un DNA incompatibile con le tracce di sangue trovate nel luogo del delitto rispetto a quelle degli imputanti e la pubblica accusa che invece ha incalzato i periti dicendo che le cose che hanno proposto o mostrato alla Corte erano del tutto irrilevanti non è dello stesso parere il avvocato Buongiorno che difende appunto gli imputati ma vediamo il servizio Omicidio Meredith lunga giornata di confronto sulle tracce genetiche individuate dalla polizia scientifica sul coltello considerato come l'arma del delitto e sul gancetto del reggiseno indossato dalla studentessa inglese quando venne uccisa risultati non attendibili per i difensori di Amanda Knox e Raffaele Sollecito perché ritenuti frutto di contaminazione di errori nell'acquisizione dei reperti e nelle loro analisi conclusioni che il PM Comodi ha però cercato di smontare con ore e ore di domande quando il PM mostra il filmato della polizia scientifica con il guanto sporco che secondo gli esperti può essere la causa della contaminazione del gancetto chiedendo come sia stato inquinato gli esperti hanno risposto di non poterlo sapere ma quel guanto è sporco hanno poi aggiunto e non sono state rispettate le procedure anticontaminazione il contaminante va dimostrato dove nasce e dove è il gancetto contaminato dalla polvere è più probabile che cadano meteorite e butti giù questo tribunale ha sostenuto Giuseppe Novelli ordinario di genetica umana e consulente dei PM al termine dell'udienza il legale dei kercer Francesco Maresca ha parlato di spiegazioni non soddisfacenti dei periti per valutare in modo diverso le prove scientifiche per l'avvocato Luca Maori invece uno dei difensori di sollecito la prova regina è caduta con l'avvocato Bongiorno che sottolinea i periti hanno ribadito che il DNA attribuito a sollecito non può essere ritenuto suo si torna in aula il 5 settembre quando i periti risponderanno delle altre parti del processo poi il confronto tra i consulenti la discussione per una sentenza che potrebbe arrivare entro la fine di quel mese i lavoratori rappresentanti sindacali di UBS Cubo Trasporti e Sly Cobas si sono dati appuntamento in Piazza della Scala a Milano per protestare contro l'accordo firmato dai sindacati confederali e la SEA secondo i manifestanti l'intesa sarebbe una facsimile di quello sottoscritto dai sindacati con Marchionne alla Fiat e quindi del tutto indigeribile per alcuni gruppi di lavoratori che appunto hanno protestato vediamo le loro interviste siamo contrari a una logica che porta a far sì che il sindacato diventi la stampella in questo caso della SEA considerando che la SEA è una società fino a prova contraria in attivo e vuole aprire anzi aprirà per l'ennesima volta la cassa integrazione guadagni speciale oltre la mobilità e questo la dice tutta in che termini in quale direzione si vuole andare se poi l'accordo è circoscritto dal fatto che la SEA vuole far sì che la società venga contrata in borsa mettendo poi sul tavolo il 30% delle azioni in possesso del comune di Milano si apre uno di quei scenari che poi inevitabilmente porterà ulteriormente a destrutturare gli aeroporti l'aeroporto sia di Lina che di Malpensa mettendo in discussione anche la stessa sopravvivenza della SEA Eindring è chiaro che il problema del comune c'entra nella misura in cui il comune è l'azionista di maggioranza del gruppo SEA e quindi ha la piena responsabilità non solo del far quadrare i bilanci ma anche del mantenere sia nei diritti sia nei doveri gli stessi lavoratori in una logica controattuale unica e non così come SEA sta mettendo sul tavolo sindacale anche il cambio delle regole quindi il cambio anche di contratto è stato utilizzato un sistema dell'andare a recuperare soldi dalla cassa integrazione e porre lavoratori in cassa in mobilità e nello stesso tempo cercare di andare a togliere alcune conquiste che sono state fatte nel corso di anni di lotta con l'ultimo accordo del 25 di luglio si prosegue questa strada quindi l'intento è quello di proseguire andando a porre 400 lavoratori in cassa integrazione e poi al fine di andare a mettere in mobilità almeno 150 persone entro il 2013 questa politica di dover creare la cassa solo al fine di poter giustificare degli esuberi al fine degli ulteriori due anni di cassa è una politica che noi non condividiamo lavoratori posti in cassa nel frattempo lavoratori che fanno straordinari allunghi di orario mancati riposi e messi in condizioni veramente estreme di lavoro passiamo ad un altro servizio in Lombardia sono il 42,5% di un totale di circa 10.000 copie all'anno che si separano quelli con i figli sono il 58% con gravi ripercussioni sulla qualità della vita dei coniugi e dei minori come rilevato da diverse associazioni in particolare i padri separati sono tra gli utenti più frequenti delle mense cittadine il progetto di legge del PD interviene sul monitoraggio del fenomeno si propone di attuare interventi a sostegno economico a favore delle persone che soffrono di questa situazione dopo la separazione appunto il reddito specialmente quello dei padri cala in modo sensibile vediamo il servizio io voglio il divorzio nel periodo compreso tra il 2000 e il 2007 in Italia il numero di divorzi è cresciuto del 35% nella sola regione Lombardia il dato sale al 42,5% per un totale di circa 10.000 coppie all'anno che si separano la percentuale di divorzi in presenza dei figli è pari al 58% dei casi con gravi ripercussioni sulla qualità della vita dei coniugi ma soprattutto dei minori l'alterazione dei nuclei familiari infatti produce nella maggior parte dei casi conseguenze negative in ambito economico generando così spiacevoli situazioni di povertà relativa il progetto di legge del PD mira a intervenire sostenendo economicamente i coniugi separati anche in assenza di figli che versano in situazioni di grave difficoltà tra le principali proposte sono quelle di dare un aiuto economico da parte appunto di Regione Lombardia attraverso le norme e le leggi che ci sono in aiuto alla famiglia nei servizi sociali per poter riuscire a dare una piccola sussistenza temporaneamente e soprattutto anche fare in modo che questi genitori possono avere delle possibilità di alloggio e quindi di housing sociale definitivamente per loro e per la loro situazione è un grande passo avanti ed è un passo avanti non è stato detto perché forse non si può dire ma è un passo avanti verso l'welfar familiare che purtroppo in Italia viene pagato dai papà separati e siamo così giunti al termine di questa edizione del nostro telegiornale non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione vi ricordo il nostro sito estnews.it grazie e arrivederci